Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati, ripartiamo da dove ci eravamo salutati. Quindi qua sotto c'è una nebbia, lì c'è una massa di non so che schifezza è. Adesso lo andiamo a vedere. Di che si tratta? C'è l'entrata da qua dietro? Sì. Sembra una caccola gigantesca di quelle, però... No, sì, sì, un caccolone gigante. Cazzo. Beh, non dovrebbe se... Alla fine... Niente di particolare. Ok, non sono spaventato per niente. Oh, dovete sta' buoni. Vi ho ammazzato al padre, la madre, che cazzo era? E ora mi vorreste ammazzare, voi a me? Ok. c'è altro qua non credo c'è solo da andare là sotto dai ma ancora ce la vive vai ci hanno ritornato tutti ma io sento ancora sghignazzare dove cazzo sono vabbè quella era la caccola rune a gogo rune a gogo che ci servono come arpane dai livelli ma io ho sti mostri che sghignazzano o sono qua sotto o sono qua sotto o sono sotto o sono sotto ma allucinante qua dentro allora ah eccolo là qua sotto e ma poi ci ritorno su io sì 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 col cavallo una botta secca soldati e che cazzo ancora sghignazzamenti si sentono non lo so vabbè dobbiamo andare dentro sotto le scale o è qua dentro sto bastardo sicuramente vai amico mio sanguigno nobiliare vai 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 limiere vai fagli vedere vai guardate guardate la potenza io non manco mi muovo fa tutto lui va va madonna mia che spettacolo ragazzi mamma mia sei in grande te voglio bene alla prossima no ragazzo è pazzesco una agilità e una velocità assurda e c'ho quell'altro pure strappo ma sto cazzo di cosa sparisce o no sto schifo no e oltre a lui ah è sparito oltre a lui io ho preso pure il capo di questi però ci vuole un abisso di lo cazzo sta tiche dei neri cottelli questo è il più forte 132 questo qui tiche dei neri cottelli è il più forte di tutti però non l'ho potenziato al massimo perché 132 dpa io non penso di farli però con questo qua già avete visto è una cosa spettacolare è una cosa spettacolare potenziato al massimo veramente impressionante elica sanguinaria spada elica sanguinaria causerà sanguinamento mazza quanti armi nel elica sanguinaria forza e arcano di destrezza di infatti arcano 17 12 con tutta la runa attiva pesa 8 beh tenibili spada perforante con una lama spirale arma dei nobili servitori del signore del sangue i suoi colpi affondano le canne del nemico aprendono le ferite che sanguino colpiosamente il sangue versato scorre leggiadro su tutte le cose della lama destrezza dinastica schiva agilmente un attacco distanziandoti dal nemico seguita da un attacco potente sferno rapido a fondo un ulteriore attacco potente permette di eseguire un colpo ad ampio raggio eh però arcano 17 questa è pure un'altra ballaggia ci sono belle armi veramente mazza questo non ne ho più e poi io avevo preso un ricettario proposto il ricettario 29 dove cazzo sono stregonerie qua dove era 29 o 19 boh 19 no no non era 19 cazzo boh non mi ricordo se forse era 19 davvero o 18 lo stava 22 vaso di malciume 21 vaso seducente uvetta dolce e pietra ah questo uvetta dolce e pietra riscaldante si non è seccato ok questo è quello che avevamo preso va benissimo dai quindi abbiamo fatto pure sto coso qua e quindi qua sotto se siamo tolti ogni soddisfazione l'albero l'avevamo fatto ma c'è da andare qua che c'è da parlare con questi c'è il mulino a vento qua sotto che ci indica ah cosa eccolo qua poi vediamo pure fino a qua sotto che cacchio c'è qua c'è un'altra cosa ma non so se ci siamo già stati ah poi c'è da andare qua eh sembra va guarda quanta roba c'era qua da fare guarda quindi in dove cazzo siamo siamo qua qui è inutile che ci vada perché mi riporta qua dunque teletrasportiamoci il sentiero lungo la via di qui e andiamo a parlare con questo perché qua abbiamo fatto tutto non ci serve niente quindi da ritorni qua da ritorni là ah ma qua siamo sotto al ponte qua siamo sotto io devo andare sopra ma per andare sopra no scusi questo è sotto quindi devo ritornare proprio qua il gran ponte sarà una mercante nomade si prendere il teletrasporto che ci porta dall'altro lato dal ponte di sopra e lì c'è quello con la maschera d'oro che finalmente ha incontrato amichetto e amago un'altra quest raggiungiamolo e vediamo un'altra quest eccoli là tutte e due ma vediamo che cosa succede sta amico mio hai visto eh riguarda le nobre maschera d'oro che a me non mi ha cagato documentarista documentarista allora cura una ridotta quantità di pv restudisce pv restudisce una ridotta quantità di pv all'esecutore e ai suoi alleati riduce l'accumulo di veleno incrementa la resistenza danni da fuoco danni da fulmine d'urto produce un'onda che lo spinge i nemici battutisce il suono dei pa ok no scaglia un anello e produce davanti all'esecutore queste le possiamo freddo dice ah perché c'ho la runa e me le fa usare scaglia una lancia folgorante davanti all'esecutore conferisce danni da fulmine all'armamento nella mano destra 15 ma sempre perché abbiamo la runa attiva però se io poi non ho la runa attiva ciao in fondo di nera fiamma all'armamento nella mano destra vedi queste sono tutte cose che noi possiamo usare questo fede 9 alziti o fiamma incenerisce l'aria davanti all'esecutore con lingue di fuoco scaglia una sfera di fuoco rovente 16 fa scaturire una fugace fiamma ruggente dalla mano allora vorrei caso mai vabbè questo scaglia una lancia folgorante dall'esecutore lanciava la cosa di fulmine danni da fulmine 15 sì però io c'ho 12 perché solo con la runa attiva solo con la runa attiva io ce l'ho ste cose una volta che muoio la runa non è attiva ciao non posso fare un cazzo quindi per il momento no lasciamo perdere vedete quindi per stessa cosa è questa se c'è alcio da termine no lui ci parla o continua a farsi i cazzo suoi macchie c'è cagato il striscio questo non l'ho capito questa quest vabbè comunque fate come cazzo vi pare e abbiamo andato l'abbiamo detto al mulino a sud abbiamo fatto tutto l'armaghetto l'abbiamo fatto a secco e dai che cazzo dai fammi mettere sta ma cazzo ma penso che stiamo andando giusto penso cazzo è qua il mulino è qua come mettere il segno va tacci tua ma stanno sparare da sopra non da qua a frate è questo qua la struttura questa qua sopra c'è c'è un alberello a affanculo pezzo da merda che te direi pietre ho due dove sta all'altro adesso ho tre ok ma fammi andare là ok mamma mia che palle ho sentito il tintennio, dove si è nascosto? beh, qua dentro eccolo and'entra dal fulmine, ah questo è quello che alzi la spada e lanci il fulmine che cazzo fai? invece di fare la mossa si è inginocchiato sto coglio ah ci ha ritornato la boccia pure ok ma io devo andare là tacci tua con sto cazzo di giallo, loro vestiti di giallo si mimetizzano ma li vedi? c'è sto il cavaliere vieni frate vieni ho mancato scendi da cavallo e vattene affanculo pure tu vuoi? ti è stato servito che vorrete a posto dai ci siamo entriamo qua dentro torre della strada maestra ma che è stato sto rumore guarda guarda forse ho capito una seconda una seconda questi scendono vengono a morire adesso è proprio scesa a volo proprio ok se sali no 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 arco pesante e freccia grande tutto qua ci sta altro eppure sembra che qua fuori qua qua no non c'è altro ma l'ho preso non c'è altro non c'è altro non c'è altro quindi torre della strada maestra torre della strada maestra torre della strada maestra leggerita quindi qua ci fa andare qua sotto qua abbiamo fatto tutto qua abbiamo fatto proprio tutto mascheratore cosa ancora lì bisogna vedere una volta che io salvo se spariscono da lì perché stavano guardando qua quindi magari si trasferiranno qua scusate scusate ok quindi che fanno se scende arrivo qua ma no perché quella leggerita della partita allora questa forse ci fa fare la parte di sotto possibile è brigante io sto ah sto il brigante questo è quello che mi vendeva i granchi devo andare a vedere ti metto il segnaletto ok no cazzo quello è rimasto più come sfonda qua cazzo dove sta? ma che sei buttato sotto? si vaffanculo va si 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 è buttato quindi di qua mi fa entrare là dentro e il brigante è di là quindi stiamo andando giusti stiamo andando giusto stiamo andando giusto ma mi sa che questo è dalla parte di sopra qua siamo dalla parte di sotto quindi non siamo giusti un cazzo per andare dal brigante mi sa sono borghi della capitale infatti io qua non ci sono stato non so manco che cazzo ci aspetto tutte ste belle cose che cazzo sono non è che sono giganti che attimo morì ok attimo ah no aspetta 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 oh 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 stato di marica stato di marica vuol dire che è una brutta zona il brigante sta là il brigante sta là già ma mi sa che io qua sono venuto già non c'era il marenaio qua e l'abbiamo battuto si vedi l'abbiamo preso un oggetto ok quindi devo andare a trovare solo questo bastardo che mi voglio comprare i granchi per la difesa e qua sotto eccolo eccolo là eccolo là che sta arrostendo i granchi eccolo 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 quindi non vedo l'abbiamo vabbiamo Grazie. Ciao, amico mio, dammi tutti questi granchi, eh? Sì, sì. Ma sono illimitati? Eh sì, cazzo. Allora, di queste dieci e dieci. Ok, va bene così. Vendo, che ti vendo. Allora, questa è la mozza che c'è da. Che ti posso vendere? Arco di corno, arco serpente. Balestra a puleggio. To di tardi che non mi servono. Scudi me li potrei vendere pure tutti, tanto non ne uso manco mezzo io. Mh-mh-mh-mh-mh. No, pensavo che mi dicesse qualcosa. No, no, vabbè così, dai. Ok, quindi da lui siamo venuti, ci siamo presi i granchi. Tomba della Costella, questa l'ho fatta, Balvaro della Capitale ci siamo entrati, quindi siamo scesi da... No, qua dobbiamo andare. Eh, ma come cazzo? Devo ritornarci qua sopra, per fare sta strada, arrivare qua. Eh, penso di sì, ma il fatto che non me lo ricordo se l'ho fatto l'albero, non me lo ricordo veramente. No, vediamo. Qua sotto sì, ha fatto. È nascito pure il granchio gigante. Eh, qua ci siamo stati e siamo andati alle grotte, quindi no, dobbiamo ritornar su. Alberello, qua sopra, vediamo se l'avevamo fatto, sta albero, no, perché è segnato, però... No, penso di sì. Mi sa di sì che c'era tipo una squadra, sì, eccoli qua. L'ho fatto, l'ho fatto. L'ho fatto. Non mi ricordo se c'era qualcosa altro, ma credo di no. Quindi, eh, volevo andare a vedere sta strada di nuovo. Ok, è strano che... Allora, partendo da qua, facendo tutto sto tragitto, io non abbia trovato un salvataggio. È impossibile. Ci deve essere un punto di grazia da qualche parte qua. È strano che non c'è un punto di grazia. Che cazzo. Assurdo. C'è, ass... Guardate un po'. Da qui, villaggio dei Molini a vento, mi dice di scendere. E io adesso ci ritorno, perché altrimenti qua non la trovo più la strada. Ci riscende e vediamo. Scendi. Scendi. E scendiamo. Ragazzi, i cose gialle mi fanno pensare che il colore là, invece non è che è. Eh. Portacci, su, siamo ritornati di nuovo in mezzo a quel casino. Ah, c'è di andare qua sotto. Puttana di tua madre. Eh, ma mo'. Oh, ci ha rotto il cazzo, quello non mi fa vedere più dove è la strada. Ah, ci stanno pure i lupi. Eh, va' affanculo. Eh, va' affanculo. No. Comunque, allora, sì. Eh. Eh. Di qua. Zanna di gallina a quattro dita. Zanna di gallina a quattro dita. Ah. Agendato, dorato, dov'è? Non c'è. Che cazzo è? Non è che è un'arma? Un cazzo di questo? Cos'era? Ma chi era? Non ho visto che cazzo era. Ah, eccola. Molto mila caccia di uccello. Per la creazione di oggiabba, niente di che. Allora. Ah, non mi tocca il vuoto, eh. Stiamo andando giusti. Altre rovine. Vabbè, 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 l'ho c'ha paura. Uh, eccola, va' Forgiatura con area cinque. Cazzo stavi a guardare. L'albero. L'albero. Non c'aveva la spada. Uh. Cazzo. Figlio di putt. Vieni qua. Eh. Non so più agile io da te, pezzo de' merda. Ok. Hai capito? Ho ammazzato a quello, si è trasformato. Vabbè. Fatto sta che ancora un altro cazzo di salvataggio non l'ho trovato, eh. Un altro punto di grazie. Ed è pazzesco sta cosa. Quando te ne danno uno, dirò l'altro, porca puttana. Ormai lo. Non vi tocca. No. Se tu mi rompi i coglioni, sì. Ma un fottutissimo punto luce per salvare Faloco. Chiamatelo come cazzo, mi pare. Ma me lo vuoi dare? Ma me lo vuoi dare? Non c'è niente. E qua sopra, che cazzo va da torno su, no? Io devo andare giù da quella cazzo di cosa. Stanno dei fulmini. E là sotto. Che sono sti fulmini? Eccolo là il punto di salvataggio. Eccolo là, eccolo là. Ma i fulmini stanno là sotto. A riposate. Sentiero lungo il baluardo. Qua sotto. Ah. Qua sopra dobbiamo andare. Ma da sopra si scende. Eh, per no. Non c'è dato. Ma... Qua sopra si... Da sopra? E da sopra dove? Da qua? Ah. Non credo. Meduse. Un po' di terra. Penso di sì. Si sale da qua, credo, eh. Ma qua che cazzo c'è? C'è altra roba. Madonna. Ma ma sei... Sei... Cazzo? Sei aggressivo, sei. Cazzo? Cazzo? Sono aggressivi, eh. Ammazza questo. sono aggressivi questi tornato e dove cazzo mi porta sto tornato è là in alto togliamo bene qua sopra prima di fare il tornato dove stiamo? dalla parte di sopra dell'ingresso principale lì c'è qualcos'altro rune, rune pezzo di me ma ha spinto e poi mi voleva colpire bene è così vediamo ah dove arrivano i fulmeni dove arrivano i fulmeni? no ma io devo andare... eh si è giusto è giusto è giusto c'è qua e qua ok cazzo puttana eva drago antico questo ci sfonda il culo guarda lì c'è sta un drago c'è un 90 ma passa Milano eh ma mi sono beccato pure la cosa noo cristo drago antico la mattanza dei drag antichi dove Claudio lotto fino all'ultimo l'impresa lievarsi l'amicizia del temuto fortisax sax e ho capito ma io ti posso pure venire da ammazzare però sento un'altra cosa tintinnare dov'è se ci sarebbe ma c'è stato no non c'è manca la statua demarica quella cosa è una chiesa quella è una chiesa allora ci possiamo andare là c'è una cosa un po la ci darà per potenziare sì sì ci andiamo e là dentro ci saranno cose di salvataggio allora poi si può fare di discludercela questo drago per vedere com'è se mi fa evocare pure il limiere siamo a cavallo guarda sta scappando figlio di troia sta scappando tante fermo non corre non corre non corre non corre bravo ce ne rivera ariete folgorante questo questo è l'ariete folgorante figlio di puttana quello cos'è a quella è la struttura quella è la chiesa c'è un cimitero madonna i miei ragazzi quanta roba che c'è da fare tanto poi mi attacca lei tanto vale se ce l'ho sottotiro o lo sfondo se no mi attacca non lo va già mi ha puntato va va se ho qua se ho qua che vuoi dì adesso come ti ha puntato vabbè raga entriamo a sta cosa qua vediamo se c'è il luogo di grazia sicuro ci deve essere chiesa degli eche tempesta come pezzo di merda non c'è cosa del salvataggio cazzo non c'è c'è solo a cosa la dardo vabbè alla crema sacra e niente ci salutiamo qui e poi proseguiremo andiamo a vedere se si può fa sto drago quindi un saluto da gioca e basta da gratos ci si vede alla prossima ciao ragazzi